Bene ragazzi sono Vef e questo è un nuovissimo video di Sharlacraft dove farò una costruzione epica mitica che ho fatto in un mondo in sempre super fiatto per esercitarmi andiamo in Shatter Ok eccoci in Minecraft, ora andiamo su single player Sharlacraft Ho fatto delle modifiche perché avevo perso Sharlacraft qui, vabbè non ho messo le Shatter Qui ci sono i blocchi da costruire e qui sono a livello 61 per quanta clay ho cotto Cioè guardate sono stato un botto qui, metto le Shader perché mi piacciono, mi piacciono Se ti sbrighi, se vabbè un po' più da luce e qui ho rifatto il coso E questo è un coso di soluzione, mi hanno detto di farla proprio qua sotto, non so il perché Quindi ora con questi mitici blocchi io direi di andare qui E qui devo fare così ora, devo alzare la voce perché se no non mi si sente la voce Per dove sono, qui io mi voglio fare questo, sono io, è una pixel art di me con un'altra cristiana Crista, boh, non lo so cos'è, sarà pure buddista Ah, fatta battuta, qui ok e io avrò un coso d'oro alla cinta Cioè guardate che materiali me stai a fa spreca Cioè, me stai a fa spreca un blocco d'oro Te ne rendi conto? No, così sembro fantocce E qui ora devo farmi la camicia Perché io mi voglio fare la camicia, sono fissato con le camicie e sono un pirla perché ho preso solo 16 blocchi Sono un pirla! O se no, aspettate, rimedio io Perché io so... Oddio, forse mi bastano perché ho preso 16 blocchi Qui, qui, così, no, non mi basta Oh, sì che mi sono abbassati Regà, che culo! Che culo! Qui, no, non è vero, non mi basta, no, perché Qui devo fare la mano che va dritta Io non ho moltissimo tempo a disposizione Qui ho una mano che va dritta Cazzo! Per uno, due, tre, quattro Eh, per pochi blocchi, va bene Ma perché ho pensato sto blocco qui a caso? Eh, cuore! Ma, ma, ma so scemo io Perché ho preso così pochi blocchi di lana? Dai! Vabbè, lo faccio così Sì, va bene, va bene così Ora io vado a dormire perché Meno male che c'è sempre il mio castello qui vicino Io amo il mio castello Castello E questo video uscirà domani che è la notte prima di Capodanno È la notte prima di Capodanno Capodanno Qui ho comunque Da dove vi faccio vedere una cosa Anzi, non ve lo faccio vedere nel prossimo video Perché sono scemo E questo è il video per la notte di Capodanno Non c'è No, vabbè Non fate caso a quello che dico io Vabbè, non rimediato Calmo, Feffo Somatizza e parla Ma è brutta questa cosa che è una mano più lunga E una più corta Però Eh Feffo E dai Non c'è poi tradì così Non c'è poi tradì Hashtag non c'è tradì Popo Popo Non c'è Tradì Qui ora Perché strillano Mannaggia a Cristoforo Colombo Mannaggia Ma io non so il perché Ok Ora qui la costruzione Della testa È molto complicata Infatti ho preso Tutti Sti cazzo di blocchi Ora andiamo qua su Io non so il perché Ma ogni volta in registro strillano Che palle Qui è così Sì spettate È così Poi qui va Su di uno Poi qui va Uno Due Tre Che palle Qui va così Perché ho la capoccia così Non lo so Nemmeno io C'avrò Boh Non mi fanno Chiedetemi cosa ho io Per favore Please Non comment Proprio Non comment E Visto che L'altra persona È povera Io metto la cinta Quella lì De De Cos De Come si chiama De Iron Perché io Sono povero Non è il culo Perché Non gliela metterò mai Di culo Come me Perché C'è Io sono il proprietario Del mondo C'è Già Già Entrare In Shalakraft È difficile Pensa Con Con I blocchi D'oro C'è Proprio Deve aver fatto qualcosa Adesso Adesso Brevo Dovrebbe essere Così Se non sbaglio No Perché Sono birra Perché Io Non ci riesco Ci riesco Solo Nei mondi Incredico Dai Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Uno Due Tre Uno Quattro Uno Due Tre Quattro Non so Perché Ma lo devo fare Più largo Quindi Quanta L'anno Sto sbrigando Io Non ho pure Nemmeno Tempo È Quella La Cosa Mi fa Arrabbiare Tre Quindi Così Questo È Da Riempire Così E io Qui Ora Faccio Così E ora È Risolto Sì Proprio Risolto Riga So Forte Vabbè No Non è Quello Che Risolto Chi L'ha Detto Ma Perché Io Ti Parlo Cioè Non Lo so Perché Ma Vabbè Taglio Big Che No 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 Non c'è Bisogno Tartai Sì Che C'è Bisogno Perché Questo Quanto è 1 2 3 4 No Deve Sste Da 5 Non ce La Faccio Più Ma Perché Io Devo Fa Ste Costruzioni Non ce La Faccio Più Giuro Guardate Guardate Se Quando L'ho Fatto Ok Rieccoci Ora Qui Metto Cioè Ho risparmiato Una parte Che ora Dovrò Ritagliare Che Bello Che Bello Ye Guarda So Felicissimo Guarda Qui Ho Fatto Un Pele 1 2 Aspettate Fatemi Menni Anzitutto Con Calma 1 2 1 2 Quindi Devo Alzarmi Questa È La Signora Che Ne Mi Poi Ah Qui Mi So Fatto I Capelli Improvvisati Proprio Improvvisi Al Pelo Così No Qui Qui Non so Perché Ma Mi Sbaglio Sempre Ora Rifacciamo La Magnifica Faccia Ye Ce Rivediamo Quando L'ho Fatta Che Forse È Meglio Raga Ciao Final Risultato Lei è Più Alta Di Me Perché Io Sono Un Nano Di Merda Ok No Per davvero Io So Bassissimo Le Cosa Cosa Fatto Cosa Cosa Avevo Fatto Sul Castello Solo Che Mi Sono Scordato E Quello È Bello Di Averlo Fatto È Per Quello Che Una 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 Questa Stavo Dormendo Allora Ho Visto Lì Un Buco C'è Non Ho Visto Questi Buidi Dico Fammi Una Vede Che Ho Besso Le scale E C'è Questo C'è Dietro C'è Posso Vedere Tutto E Qui C'è Una Miniscala Che Mi Porta In Cima Alla Montagna Poi Che Io Quando Posso Buttarlo Giù E Arrivo In cima Al Cassello C'è Ecco Come Ho Fatto Bambia Tra Io Abbiamo Dietra A Bambiera E Dai Tanto Ma Lo So Già E Che Te Fai No No Dai Perché C'ho La Game Rule Perché C'ho La Game Rule No Aspettate Io Odio Letteralmente Mio Fratello Io Odio Mio Fratello Tip 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 Invento Tip 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 è bella raga